La locomotiva si rifocilla Nelle fermate caricamento dei merci Immagineremo il romanzo dei tronchi d'albero destinati a mutarsi in mobile di stile Campi arati si suggerirà il museo dei pori Ma abbiamo sognato in vano Il solo che goda davvero delle proprie fantasie è questo signore Il famoso è precluso fino alla notte di Natale Eh eh no, fate indiscretti ragazzi Per ora deve giocare soltanto a papà